Si è tranquillamente presentato in taxi davanti a questo edificio il comando centrale della polizia di Atene, il numero 2 di Alba Dorata, Christos Papas, giusto il tempo di lanciare l'ultimo proclama. Non ci piegheranno ed ha visto le manette chiudersi ai polsi. Ora è in cella accanto al suo capo Nikos Mikhailo Jakos ed altre 21 persone, 11 sono ancora a piede libero. Era dal colpo di stato dei colonnelli che un gruppo di deputati in Parlamento non veniva arrestato. Questo spiega quanto la questione sia delicata per un governo che di certo non gode del sostegno popolare. Abbiamo i mezzi per difendere la democrazia, aveva detto ieri il portavoce del premier Samaras, confermando l'esistenza di un rischio deriva autoritaria. Il procuratore della Corte Suprema che ha condotto le indagini è convinto di avere un caso solido contro il partito dell'ultradestra. Per mesi l'antiterrorismo ha intercettato ogni loro comunicazione, ogni telefonata, svelando lentamente che dietro la facciata politica esisteva un'organizzazione paramilitare che progettava e portava a compimento atti punitivi, assalti. Ordinava persino omicidi. Si infiltrava in ambienti favorevoli come alcune frange estreme della polizia. Tra gli arrestati ci sono dei poliziotti, altri sono stati rimossi dall'incarico e tra le forze speciali dell'esercito, come se si stesse preparando un vero e proprio colpo di Stato. La svolta per le indagini però arriva solo nella notte del 17 settembre davanti a questi scalini di pietra bianca. Qui viene massacrato Pablo Spissas, un rapper conosciuto negli ambienti della sinistra. Sembra una banale lite per motivi calcistici che sfocia in una rissa politica, ma le intercettazioni provano che non è così. Vendetta hanno scritto su questa porta, nel luogo dove hanno ucciso Pablo Spissas. E chi ha scritto queste parole non poteva sapere quanto sarebbero diventate profetiche, perché proprio quell'omicidio, proprio il ritorno in massa degli uomini di Alba Dorata dopo essersi organizzati, dopo aver chiesto il permesso di uccidere ai loro vertici, i quali hanno poi dato il via libera, ha concesso al governo greco di provare che Alba Dorata in realtà non è altro che un'organizzazione criminale. Lucas Zanis, il sindaco di Cherazzini, dove Fissas è stato massacrato, ha una sua idea ben precisa su cosa ha portato Alba Dorata ad apparire nel suo territorio, che storicamente ha radici fortemente antifasciste. Alba Dorata qui non è mai esistita. Sono arrivati all'improvviso, hanno preso il 13% nelle ultime elezioni, ma chi li vota non è un nazista, è un disperato, uno che ha perso tutto ed ogni giorno è coinvolto in una lotta crudele per sopravvivere. È una persona arrabbiata. Alba Dorata è il voto di chi pensa che la politica lo abbia costretto ad una vita miserabile e vuole mandare un messaggio al governo. Di voi non ne possiamo più. Proprio il fatto che la base di Alba Dorata sia composta non da neonazisti convinti, ma da persone disperate, lascia il sindaco Zanis con una convinzione che l'omicidio Fissas segni la fine politica dei neonazisti greci. Ho amici che posso dire sono tutto tranne che fascisti ed hanno votato Alba Dorata. Ho parlato con molti di loro di recente ed hanno capito che per risolvere i loro problemi non possono affidarsi a dei criminali. Sì, è una organizzazione di crime.